Nome e cognome? Daniele Guida. Ciro Ritti. Ruolo? Difensore. Centrocampista. Un aggettivo per descrivere il campionato? Stupendo. Strepitoso. Il giocatore più simpatico della squadra? Mario Pavard. Affreddo D'Ambrosio. Il giocatore più forte della San Giovannese? Bon Bermusto. Vincenzo Reale. Il giocatore più scarso della squadra? Claudio Dio. Concordo. Il giocatore più dotato nello sfogliatoio? Ciro Ritti. Daniele Guida. Un aggettivo per descrivere il direttore Candice? Favoloso. Strepitoso. Pregi e difetti di Ciro Rivitti. Pregi ha fatto 15 gol, 13 rigori. Le ha segnate tutti. 9 rigori. 9 su 9. Il difetto è che è buffone. Pregi e difetti di Guida. Che c'ha 35 anni e vuole fare il ventenne. E il pregio? E il pregio che è un amico. Senzazioni ed emozioni per descrivere il campionato? Sensazioni bellissime e emozioni ancora di più. Più emozioni che sensazioni. Campionato strepitoso. Un grido per la vostra squadra. Forza San Giovannese! Forza San Giovannese!